Questo programma è offerto da Grazie a tutti 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 Tre puntini di sospensione così immaginate un po' tutto voi insomma con tutta la fantasia del caso Grazie a tutti 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 Passi Passiamo Passi Grazie a tutti Passi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tu Passi La terza Grazie a tutti In questo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti